Sente una curiosità, lei lo sa direttore, a Napoli c'è Rudy Garcia che appena sente Maximo e poi sente dall'altro lato Lope si impazzisce, c'è quei bei capelli che gli diventano dritti, no lo voglio io, lo voglio, ma glielo diamo, lo accontentiamo, è tornato in Italia, lo accontentiamo Garcia? Mi piacerebbe accontentarlo, mai dire mai. Sì, è anche vero che il ragazzo avrebbe il desiderio di andare in campionati, anche in squadre più importanti, ma anche in campionati all'estero, vediamo un po' se riusciamo a esaudire la sua volontà, la sua richiesta, io considero Maximo uno dei giocatori più forti della settimana, per cui quello che in questo momento ci fa molto piacere comunque perché quando si parla già, brava Elena, di Berardi, di Costesi, di Maximo, vuol dire che una cosa è certa, il lavoro che sta svolgendo questa società è un lavoro importante perché non sono tanti club che hanno rinunciato.